Iniziamo dalla variante del Corsalone. Voi come Italia Viva chiedete una posizione un po' bipartisan su questa vicenda affinché comunque si arrivi poi ad un finanziamento che concretamente si possa realizzare l'opera. Sì, perché le vicende di queste ultime settimane hanno dimostrato che dopo l'interrogazione fatta dal nostro capogruppo in regione, Dottor Scaramelli di Italia Viva, la risposta dell'assessore era molto chiara che le risorse comunque non davano possibilità o comunque c'era molta incertezza nell'andare avanti nel finanziamento. A questo punto poi c'è stato l'11 luglio una delibera della Giunta che ha rimodulato la disponibilità delle risorse e hanno tolto tutto quello che erano i 18 milioni rimasti per realizzare il famoso secondo lotto della variante del Corsalone. A questo punto credo che bisogna fare un salto di qualità e quindi come Italia Viva abbiamo lanciato questa proposta alle altre forze politiche ma anche alle associazioni di categorie economiche, ai sindacati e moltimamente anche ai comuni che vorranno di organizzare un tavolo perché non essendoci più le risorse per realizzare questo lotto o comunque questa variante del Corsalone escluso la parte della rotatoria del Pollino che ora è in fase di realizzazione secondo noi sarebbe opportuno individuare un nuovo progetto che tenga conto al di là di quelle che sono risorse che oggi non ci sono ma lavorare tutti insieme con il territorio perché dopo 30 anni si riesca a fare questa benedetta variante e reputo che sia importante definirla facendo un ragionamento che va al di là della singola posizione di chi fa l'opposizione e di chi fa la maggioranza. In questo caso, visto che poi ci saranno anche le elezioni politiche, sarebbe opportuno che tutto il sistema economico, sociale dei sindacati e dei comuni, lavorare insieme e poi invitare quando ci saranno i candidati durante la fase elettorale a un impegno per sostenere nella finanziaria 2023-2024 quelle risorse necessarie per fare un nuovo progetto. Dal Casentino alla Valtiberina anche lì è una questione annosa questo tratto diciamo a rettino della ex Tiberina Trevis di fatto l'unica alternativa in caso di blocco della E45, l'abbiamo conosciuto bene durante il sequestro del viadotto Puleto. Ecco lì siamo ad una svolta, però voi volevate un attimo mettere un po' qualche puntino sull'EI. No, visto che alcuni giornali, mi sembra giusto ringraziare il sindaco di Piavi-Santo Stefano Marcelli il quale è evidenziato perché il mitico finanziamento di 5 milioni che sembra che tutti negli ultimi giorni si sono accaparrati questo tipo di opportunità, nel senso che tutti si sentono protagonisti di aver portato queste risorse, nasce da un emendamento portato avanti da Maria Elena Boschi come capogruppo insieme a altri parlamentari, Marco Di Maio di Forlì e un altro parlamentare evangelista frate sull'ultimo di El Aiuti ed è passato questa prima disponibilità. Ne abbiamo chiesti 35, ma intanto ce ne sono stati dati 5 e poi cercheremo di seguirla anche sulla finanziaria del 2023 e le altre. Però mi sembrava giusto farla questa precisazione, se no tutti qui stiamo a mettere la bandierina ma come giustamente ha evidenzato il sindaco Marcelli, chi ha fatto l'emendamento in Camera dei Deputati è stato i nostri rappresentanti di Italia Viva con a capo Maria Elena Boschi.